Sono state diverse le iniziative messe in campo per chiedere e accelerare l'iter volto la riapertura della RSA del Bivio di Bellocchio Giulianova. Questione da mesi al centro di polemiche da parte di alcune sigle sindacali e forze politiche di sinistra che chiedono la sua attivazione e il recupero del personale che era stato utilizzato con l'apertura della struttura durante il periodo Covid. E proprio sulla sua riapertura il sindaco di Giulianova Ivan Costantini ha annunciato che a stretto giro ci saranno importanti novità. Questo grazie al lavoro portato avanti da Comune, ASL e Regione. Sì assolutamente sì, ci saranno delle importanti novità nelle prossime ore a strettissimo giro sia la Regione Abruzzo con l'assessore Verì, sia il direttore generale e il direttore sanitario dell'ASL di Teramo che il Comune stanno lavorando senza sosta per far sì che la struttura riapri nel minore tempo possibile. Una struttura che è stata molto utilizzata nel periodo Covid? È stata fondamentale per combattere l'emergenza Covid della provincia di Teramo e oggi naturalmente quello sforzo in mano non lo dimentichiamo, non lo dimentichiamo in termini di valore umano degli uomini e delle donne che hanno lavorato lì dentro e che naturalmente e giustamente devono essere rintegrati e devono assolutamente poter compiere e portare a termine questo progetto che era partito addirittura 18 anni fa che poi sotto Covid siamo riusciti a realizzare e ad aprire con l'emergenza. Un argomento su cui l'ASL aveva annunciato di essere al lavoro per aprire il centro che ricordiamo rappresenterebbe un importante aiuto per le tante famiglie che vivono quotidianamente il dramma delle demenze senili. Oggi deve tornare a svolgere il suo ruolo originario che è quello, ricordiamolo tutti, di un RSA che combatte e dà un contributo fattivo nella problematica dell'Alzheimer. Adesso vediamo un attimo, però io sono convinto che nelle prossime ore ci saranno delle novità importanti. Quindi l'obiettivo è riaprire queste importanti strutture e non chiuderla mai più? Assolutamente sì, per troppo tempo abbiamo visto questa struttura chiusa, realizzata e poi lasciata nel più totale abbandono, fino a che ci saremo noi a governare la città questo non accadrà e siamo anche attenti a sollecitare gli enti sovraccomunali che sono quelli gli attori principali della problematica dell'RSA del BioBellocchio.